Due ragazzi di 22 e 25 anni aggrediti da sette persone. Prima gli insulti, poi le botte che hanno mandato all'ospedale il 25enne che è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mandibola. La ragione di tanta violenza? I due ragazzi si tenevano per mano. È successo a Pescara, in pieno centro, la notte tra giovedì e venerdì. Le associazioni per i diritti della comunità LGBTQ parlano di beffa perché l'aggressione è avvenuta durante le celebrazioni del primissimo Pride d'Abruzzo, proprio qui in piazza Primo Maggio, il luogo che l'amministrazione ha negato ai manifestanti. È ancora un richiamo ancora più forte a quanto sia necessaria la manifestazione del Pride e qualsiasi legge che tuteli le persone LGBT+. Un fatto che testimonia l'esistenza di una cultura macista ancora ben radicata qui a Pescara e in Abruzzo. Cosa si può fare per combatterla? Noi come movimento proponiamo sempre una formazione che parte dalle scuole, va in tutti i luoghi di aggregazione sociale, anche fino al lavoro, proprio per contrastare qualsiasi tipo di aggressione contro la comunità LGBT e l'identità di genere. Al 25enne una prognosi di 30 giorni. Ora le forze dell'ordine stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i membri del branco, che sarebbero tutti giovanissimi del posto. Il sindaco Carlo Masci è stato in ospedale per portare al ragazzo la solidarietà della città. Il primo cittadino si è detto però sorpreso. Pescara è sempre stata una città accogliente e aperta, le parole del sindaco. Una cosa vergognosa, inaccettabile, compiuta da delinquenti, perché mi piace sottolineare che queste persone sono dei delinquenti e se sono minorenni dovremmo ragionare anche con i genitori che non educano i figli e non insegnano la base del vivere civile. Io sono andato a trovare il ragazzo ieri mattina, non ho appena saputo la notizia, ho trovato una persona misurata, equilibrata, quello che si dice è un bravo ragazzo che non aveva nessun sentimento di rancore nei confronti di questi delinquenti e ovviamente non lo aveva nei confronti della città dove ha vissuto per più di tre anni perché ha fatto l'università qui e ha detto che non gli era mai successa una cosa simile perché Pescara è stata sempre una città aperta anche per lui e lo ha sottolineato. Mi ha anche detto che è rimasto colpito positivamente dal fatto che nel momento in cui lui è stato aggredito le altre persone che erano intorno e passeggiavano tranquillamente il giovedì sera sono intervenute per proteggerlo e quindi i pescaresi non hanno avuto paura di bloccare quei delinquenti.